la ruggina il signor cutelier in tutta la sua vita aveva una sola inesauribile passione la caccia andava a caccia tutti i giorni con un slancio furioso cacciava d'inverno come d'estate in primavera come in autunno in palude quando il regolamento proibiva il bosco e la pianura cacciava con il fucile a cavallo col cane da ferma o con l'evriero alla posta con lo specchietto col furetto non parlava che di caccia sognava la caccia ripeteva in continuazione non amare la caccia deve essere una bella disgrazia adesso aveva 50 anni sonati godeva di buona salute rimaneva giovane benché fosse diventato calvo ed era un po corpulento e robusto e si radeva accuratamente ai baffi affinché le labbra fossero libere e gli russisse più agevole suonare il corno in tutta la zona lo si conosceva soltanto con il nome di battesimo il signor hector si chiamava barone hector gontran de cutelier abitava in mezzo ai boschi in un piccolo maniero che aveva ereditato e per quanto conoscesse tutta la nobiltà del circondario e ne incontrassi i rappresentanti maschili negli appuntamenti di caccia non frequentava assiduamente che una famiglia i curvil vicini piacevoli imparentati da secoli con il suo casato in quella casa era ben voluto vezzeggiato coccolato e diceva se non fossi cacciatore vorrai stare sempre con voi il signor de curvil era suo compagno ed amico dai tempi dell'infanzia gentil uomo di campagna viveva tranquillo con la moglie la figlia e il genero il signor de darnetot il quale col pretesto di coltivare gli studi storici non faceva nulla il barone di cutelier andava spesso a pranzo dai suoi amici più che altro per raccontare loro le sue imprese di caccia narrava lunghi episodi di cani e di ne parlava come di importanti personaggi conosciuti intimamente ne svelava i pensieri e le intenzioni li analizzava li spiegava quando medoro vide che il gallinaccio lo faceva correre in quel modo disse tra sé aspetta bello mio che ci sarà da ridere allora accennandomi col capo di andare ad appostarmi nell'angolo del campo di trifoglio cominciò a cercare di traverso con un gran rumore smuovendo gli arbusti per spingere la selvaggina nell'angolo dal quale essa non avrebbe più potuto scappare il gallinaccio si trovò improvvisamente sul margine del prato impossibile andare più oltre senza scoprirsi allora si è detto sono fregato corpo d'un cane e si è accovacciato ed ecco che medoro si pianta lì fermo a guardarmi io gli faccio un cenno lui scatta il gallinaccio vola via io l'ho preso di mira pum piomba giù e medoro portandomelo muoveva la coda come per dirmi e l'abbiamo fatto lo scherzo signor rector curvil darnetò e le due donne ridevano come pazzi a quei racconti pittoreschi nei quali egli metteva tutta la sua anima si eccitava muoveva le braccia gesticolava con tutto il corpo e quando descriveva la morte della selvaggina rideva con una risata formidabile e come conclusione domandava sempre buona questa no non appena si passava a parlare d'altro egli non ascoltava più e cominciava a canticchiare qualche aria da banda militare così quando tra due frasi si creava un attimo di silenzio in quei momenti di tregua si udiva improvvisamente un aria di caccia po 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 che il barone metteva gonfiando le guance come se soffiasse un cornetto non aveva mai vissuto che per la caccia e invecchiava senza averne il sospetto e senza accorgersene d'improvviso fu preso dai reumatismi e rimase a letto due mesi poco mancò che morisse di dispiacere e di noia siccome non aveva la domestica ma soltanto un vecchio servo che cucinava per lui non poteva avere né cataplasmi né cura nulla di ciò che occorre ai malati il suo guardiacaccio gli faceva da infermiere e poiché si annoiava almeno quanto il padrone dormiva giorno e notte in una poltrona mentre il barone bestemmiava e si asasperava sotto le lenzuola talvolta il signore de courville andavano a trovarlo e per lui quelle ore erano di calma e di benessere gli preparavano il decotto attizzavano il fuoco gli servivano gentilmente la colazione sul bordo del letto e quando ci accomiatavano egli mormorava corpo di bacco dovreste proprio venire ad abitare qui ed esse ridevano di tutto cuore appena stette meglio ricominciò a cacciare in palude una sera andò a pranzo dagli amici ma aveva perso il suo brio e la sua allegria lo torturava il pensiero incessante il timore di essere ripreso dai dolori prima che si riaprisse la caccia al momento di accomiatarsi mentre le donne lo avvolgevano in uno scialle gli annodavano la sciarpa intorno al collo che lui le lasciava fare per la prima volta in vita sua morborò con accento desolato se i riumatismi mi riprendono sono fregato quando fu andato via la signora d'arneto disse a sua madre bisognerebbe trovare moglie al barone tutti alzarono le brazza come mai non ci avevano ancora pensato cercarono tutta la sera tra le vedove di loro conoscenza e la cadde su una signora di circa 40 anni ancora piacente ricca quanto basta simpatica e in buona salute che si chiamava verte vilè la invitarono a trascorrere un mese al loro castello e lei che si annoiava accettò era allegra e requieta il signor decuteli e le piacque subito si divertiva con lui come con un giocattolo vivente e passava ore intera a interrogarlo con un fare sornione sui sentimenti dei conigli e sulle manovre delle volpi egli distingueva con gravità il diverso modo di comportarsi dei vari animali attribuiva loro piani e ragionamenti astuti come se fossero persone che lui conosceva l'attenzione che la signora villèr gli presentava lo entusiasmò e una sera per mostrarle la sua stima la invitò a cacciare con lui cosa che non aveva mai fatto con nessun'altra donna l'invito sembrò lei così buffo che accettò equipaggiarla per l'occasione fu una festa tutti vi parteciparono offrendo qualcosa sì che lei apparve vestita quasi come un'amazzone con stivaloni talzoni da uomo una gonna corta una giacca troppo stretta per contenere il suo petto e un berretto da capomuta il barone sembrava quasi commosso come se avesse dovuto sparare la sua prima fucilata e spiegò minuziosamente la direzione del vento le diverse maniere che hanno i cani per far alzare la selvaggina poi la portò in un campo seguendo la passo passo con la sollecitudine di una nutrice che guardi il suo pupo fare i primi passi medoro scovò la selvaggina strisciò si bloccò alzò la zampa il barone dietro la sua allieva tremava come una foglia balbettava attenzione attenzione sono per per pernici non aveva neanche finito di dire questo che un gran rumore si levò da terra e un reggimento di grandi uccelli fendette l'aria battendo le ali sgomenta la signora viller chiuse gli occhi fece partire i due colpi e arretrato un passo per il rinculo del fucile poi quando ebbe riacquistato il sangue freddo scorse il barone che saltellava come un forsennato e medoro che teneva nelle fauci due pernici da quel momento il signor de cutelier si innamorò di lei diceva alzando gli occhi al cielo che donna e andava ormai tutte le sere dai suoi amici per parlare di caccia un giorno il signor de courville che lo riaccompagnava e lo ascoltava a descrivere estasiato la sua nuova amica gli domandò improvvisamente perché non vi sposate il barone rimase colpito da quelle parole io io sposarle infatti e non disse altro poi stringendo precipitosamente la mano al suo amico morborò arrivederci e scomparve a grandi passi nella notte non tornò per tre giorni quando si rivide si era fatto più pallido per il gran riflettere e più serio del solito presso in disparte il signor de curville disse avete avuto una splendida idea cercate di convincerla ad accettarmi per bacco si direbbe fatta per me una donna così andremo a caccia insieme tutto l'anno sicuro che la signora non avrebbe opposto rifiuto il signor de courville rispose fate subito la vostra domanda caro amico volete che me ne incarichi io ma il barone parve improvvisamente turbato e farfugliò no no prima devo fare un viaggetto un viaggetto a parigi quando tornerò vi darò una risposta definitiva una sera mentre la signora viller cantava accompagnandosi al pianoforte una cameriera venne a chiamare il signor de courville con un'aria di gran mistero dicendogli che un visitatore chiedeva di lei era il barone con un aspetto diverso invecchiato e in abito da viaggio non appena egli vide il vecchio amico mi prese le mani e con voce un po' stanca sono arrivato in questo istante caro mio e sono subito corso da voi poi esitò visibilmente imbarazzato volevo dirvi riguardo a quella faccenda sapete non se ne fa nulla stupefatto il signor de courville lo guardava come come non se ne fa nulla e perché oh vi prego non mi domandate sarebbe una cosa molto penosa da spiegarvi ma ciate sicuro che agisco da garantuomo non posso non ho il diritto capite non ho il diritto di sposare quella signora tornerò da voi quando lei sarà partita vederla mi sarebbe troppo doloroso addio e andò via tutta la famiglia ragionò discusse fece mille supposizioni conclusero che un mistero molto grande era celato nella vita del barone che forse egli aveva un figlio naturale una vecchia relazione insomma la faccenda sembrava molto seria e per non entrare in complicazioni difficili la signora viller fu avvertita con tutte le attenzioni del caso e se ne ripartì vedova come era arrivata passarono altri tre mesi una sera dopo aver pranzato lautamente dopo qualche tentennamento il signor de cutelier che fumava la pipa col signor de courville gli disse se sapeste come penso sovente alla vostra amica avreste pietà di me l'altro che era stato un po' urtato dal comportamento del barone in quella circostanza gli disse con vivacità il suo pensiero corpo di bacco mio caro quando si hanno dei segreti nella propria vita non si arriva fino a dove avete fatto voi perché in fin dei conti potevate ben prevedere il motivo del vostro ritiro il barone confuso smise di fumare sì e no insomma non avrei mai creduto che sarebbe andata così il signor de courville spazientito ribatte si deve sempre prevedere tutto il signor de cutelier scrutando con lo sguardo nel buio per essere certo che nessuno lo ascoltava riprese sommessamente capisco bene di avervi offeso e per giustificarvi vi dirò tutto da vent'anni amico mio non vivo che per la caccia non amo che questo voi lo sapete non mi occupo che di questo così al momento di contrarre i doveri verso quella signora fui preso da uno scrupolo di coscienza da quando ho perduto l'abitudine di di dell'amore insomma non sapevo più se sarai stato ancora capace di di sapete bene pensate un po sono esattamente 16 anni che 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 per l'ultima volta capite in questo paese non è facile trovare un trovare è chiaro e poi avevo ben altro da fare preferisco sparare una fucilata insomma al momento di impegnarmi col sindaco e col parroco a fare quello 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 che sapete ho avuto paura mi sono detto per la miseria e se facessi se facessi cilecca un galantuomo non deve mai venire meno ai suoi impegni e io stavo per assumere un obbligo sacro verso una persona così per avere il cuore in pace mi sono ripromesso di andare a passare otto giorni a parigi ma in quegli otto giorni è nulla ma proprio nulla le ho tentate tutte ho scelto quanto c'era di meglio in ogni genere vi garantisco che hanno fatto tutto quello che hanno potuto dico che non hanno trascurato nulla nulla ma che volete farci si ritiravano sempre con le pive nel sacco allora ho aspettato 15 giorni poi tre settimane in trattoria ho mangiato un mucchio di cose pepate cosacce che mi hanno rovinato lo stomaco e ancora nulla capirete benissimo che in queste circostanze di fronte a questa constatazione l'unica cosa da fare era era ritirarsi e questo ho fatto il signor de courville faceva una grandissima fatica per non ridere strinse con gravità le mani al barone dicendogli vi compiango e lo accompagnò verso casa fino a metà strada poi quando si trovò da solo con sua moglie le riferì tutto soffocando quasi per il gran ridere ma la signora de courville non rideva affatto ascoltava attentissima e quando il marito ebbe terminato disse con grande serietà il barone è uno sciocco mio caro aveva paura ecco tutto scriverò a verte di ritornare e subito e poiché il signor de courville opponeva i lunghi e infruttuosi tentativi del loro amico e l'aggiunse storie quando siamo la propria moglie quella cosa quella cosa riesce sempre e il signor de courville non ribatte un po confuso a sua volta